una polverina sotto il naso e da là veramente ho un buco che non era cocaina ma era un altro tipo di droga evidente una cosa perché uno pensa che magari con queste droghe dello stupro una persona può essere attiva no la donna diventa un cadavere e questi uomini hanno piacere a fare del sesso con dei una forma di necrofilia si è una forma di necro